in quel tempo disse gesù ai suoi discepoli non sia turbato il vostro cuore abbiate fede in dio e abbiate fede anche in me nella casa del padre mio vi sono molte dimore se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto quando sarò andato e vi avrò preparato un posto verrò di nuovo e vi prenderò con me perché dove sono io siate anche voi e del luogo dove io vado conoscete la via gli disse tommaso signore non sappiamo dove vai come possiamo conoscere la via gli disse gesù io sono la via la verità e la vita nessuno viene al padre se non per mezzo di me oggi prendo spunto da un'intervista di felice cimatti al filosofo francese françois julien per commentare il vangelo e non è facilissima da comprendere ma l'interpretazione del filosofo francese che si dichiara attio rispetto al termine vita mi pare davvero suggestiva la vita vera in giovanni non è semplicemente la vita che verrà ma è già la vita oggi anche perché già oggi viviamo l'eternità questa formula di giovanni è essenziale poiché nella sua progressione la via la verità la vita la vita viene dopo la verità e dunque questo comporta una distanza uno scarto con tutto il pensiero greco precedente che aveva pensato la verità direi lasciando quasi da parte la vita e io invece proprio nel testo di giovanni trovo una virtù molto importante che è quella del non schierarsi nella prospettiva della verità filosofica ma nello stesso tempo di non cadere mai in un pensiero stupido semplice della felicità ma mette invece in tensione in maniera paradossale ma fertile quest'idea del singolare dell'esistenza e quella di una verità che non è dimostrata ma che viene testimoniata attenzione non è la stessa cosa il termine greco che si utilizza è marturei testimone e dunque una verità che si apre alla vita che non è astratta dalla vita giovanni propone due termini in greco il termine psuche e il termine zoe la vita in quanto siamo in vita psuche e la vita pienamente vita la vita sovrabbondante zoe non so se in italiano sia la stessa cosa ma in francese tutte le traduzioni che ho consultato usano una sola parola per tradurre queste due vita e secondo me la rendono inintellegibile e mi sembra davvero invece prezioso e mi sembra che sia una risorsa il fatto che giovanni giustamente per farci entrare nel pensiero della vita non abbia utilizzato la parola la bios la vita etica ma che abbia sdoppiato in due parole greche la parola vita essere in vita cioè non essere morti come quando il cristo domanda da bere alla samaritana domanda l'acqua per rimanere in vita e poi il secondo senso che ne deriva che poi è quello inaudito l'essere pienamente in vita l'essere fonte di vita questo si capisce bene ognuno di noi lo può capire ognuno di noi può capire cosa vuol dire oggi essere pienamente in vita e io sono sempre più interessato al fatto che la filosofia stessa prende in carico il pensiero della vita invece di sbarazzarsene oggi assistiamo a qualcosa di estremamente pericoloso sia in francia che in italia cioè che ci sia questa sorta di mercato della felicità mercato dello sviluppo personale che predica ricette di felicità rudimentali abbastanza stupide nel loro conformismo io credo che non è attraverso la trascendenza e forse neanche attraverso la speranza che si può comprendere in modo semplice la vita vivente sovrabbondante per distinzione con la vita biologica ed è qui che introduco la nozione di esistenza prendendola nel suo senso etimologico esistere tenersi fuori alla base si tenersi fuori dallo spirito di dio ma nel contempo restare fuori dal mondo fuori dal confine nel quale ci limita il mondo in quanto totalità in quanto rapporta di rapporto di forza in breve quello che ne rappresenta la chiusura la vita sovrabbondante si può intendere nel senso rigoroso di tenersi fuori pur restando nel mondo ecco la contraddizione feconda dell'umanità e cioè che l'umanità si colloca nel mondo ma tenendosene anche fuori ritirarsi dalla chiusura del mondo spezzare un esempio semplice di ciò che trovo fecondo in giovanni e che secondo me ne costituisce una risorsa è il pensiero dell'intimo dell'intimità che giovanni definisce perfettamente quando dice il padre è in me e io sono in lui voi siete in me e io sono in voi e quindi questo tenersi al di fuori dal recinto della chiusura del mondo è un tenersi fuori ma nell'altro cosa che mi pare feconda nel cristianesimo in generale in giovanni in particolare questo pensiero dell'altro non il pensiero del miracolo al quale possiamo credere o non credere e questa sarebbe ad esempio la tesi di feuerbach e del razionalismo europeo che poi ha fatto la sua strada attraverso marx attraverso freud no per me la cosa importante è che il cristianesimo mi pare apra la risorsa del fatto di potersi tenere al di fuori di sé e fuori dal mondo perché si sta nell'altro quest'altro che può rivelarsi essere dio ma che è anche il prossimo grazie grazie grazie